Buonasera a tutti, abbiamo inizio di questa seduta del Consiglio Comunale, ho scritto il Secretario Comunale a procedere con la fedra nominale, presente, presente, Roberto Duccia, presente, Uffaro Aristotele, decorato Salvatore, assente, Arnone e Jessica, assente, Morreale e Antonio, presente, Morreale e Santatrice, e Tampaglice Milena, senti, mi chiami già, senti, mi stanno andando. Grazie a tutti. Non è presente il numero legale, non c'è la costituzione del numero legale, quindi, ai sensi della legge regionale numero 2693, la mancanza del numero legale è comporta la sospensione della seduta di un'ora, per coloro dopo la sospensione non ci fosse ancora la presenza del numero legale del consigliere, la seduta di seconda convocazione sarà tenuta il giorno successivo, sempre la medesima ora, senza ulteriore appriso di convocazione. Grazie, ci ragioniamo fra un'ora, fa le ore 18 e 19, 19 e 20.